Finalmente dopo quasi otto anni e mezzo abbiamo avuto la certezza che questo processo sa da fare e che si farà con un ritmo anche serrato di udienze, quindi è possibile che poi si concluda con una certa celerità. Quindi da parte nostra c'è soddisfazione. Grazie agli sforzi di tutti e compreso i vostri perché siete stati fondamentali sia tecnicamente ma anche affettivamente. Avervi qua tutte le volte che entriamo è veramente di grande supporto. Era il momento che aspettavamo da tanto tempo e quindi noi non avremmo mai gioia ma soddisfazione sì. Sono uno schiaffo le parole della Meloni? Non commentiamo se non che nel nostro paese fortunatamente c'è la separazione dei poteri.